Insomma, che dire, grande partita, grande partita, è stata tosta, molto dura anche oggi, ce l'abbiamo fatta, adesso insomma siamo riusciti a portarla a casa nonostante un secondo set dove loro insomma ci hanno messo sotto pressione con dei bei giri in battuta, bravi noi a riprendere un terzo set fatto bene e adesso riposiamo, stasera riposiamo e domani affronteremo questa finale come stiamo affrontando le ultime partite. cercando di dare il massimo pensando a esprimere il migliore gioco e vediamo come va.